Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate quello che sto per annunziarvi. In Giovanni, al capitolo 4, leggiamo l'incontro e il dialogo di Gesù con una donna samaritana. E vorrei leggervi due versetti da questo capitolo, quindi dal capitolo 4, che riguardano questo dialogo che ci fu tra Gesù e la donna samaritana. Così è scritto, leggiamo il capitolo 4, dal versetto 25 e il versetto 26. La donna gli disse, io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse, io che ti parlo son d'esso. Dunque, Gesù di Nazareth, perché a Nazareth fu allevato, dichiarò di essere il Messia, cioè l'unto di Dio. Perché il termine italiano, Messia, viene da una parola ebraica che significa unto. Ora, questa donna sapeva che il Messia doveva venire. Perché? Perché nelle scritture profetiche era stata annunziata la sua venuta. I profeti avevano preannunziato la venuta del Messia in Israele per redimere Israele. Dio, infatti, aveva innanzi determinato di mandare nel mondo il suo figliolo. Perché il Messia che doveva venire era il suo figliolo. L'unigenito venuto da presso il Padre. La parola, sì, perché il Messia era la parola. La parola, come dice la Sacra Scrittura, nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Poi leggiamo anche la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazie e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Ebbene, dunque, il Messia che doveva venire era l'unigenito figliolo di Dio. Il creatore di tutte le cose. E Gesù, quando venne in questo mondo, era pienamente consapevole di essere il Messia o Cristo. Perché sono termini praticamente sinonimi. Si può dire che Gesù è il Messia come anche si può dire che Gesù è il Cristo. Si dice la stessa cosa, solo che il termine Cristo, il termine italiano Cristo, viene tradotto dal greco, da un termine greco che significa unto. Ebbene, Gesù era pienamente consapevole di essere il Messia. E il Messia doveva venire per salvare i peccatori. Da che cosa? Dai loro peccati. Infatti, il nome stesso Gesù significa Yahweh salva. Infatti, prima che Gesù nascesse, egli nacque a Betlemme, mentre era nel seno di Maria, sua madre, che era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, dico, mentre era nel grembo di sua madre, cosa avvenne? Avvenne che, siccome Giuseppe era il fidanzato di Maria, essendo un uomo giusto, non volendo esporla di infamia, si era proposto di lasciarla di nascosto. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno. E gli disse queste parole, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu gli pari il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque nel nome stesso Gesù c'è appunto l'opera che Gesù, il Messia, doveva compiere e che ha compiuto. Infatti il Messia fu mandato dal Padre, dall'Idea Padre Suo, per essere il Salvatore del mondo. Quindi provvedere la salvezza appunto di cui parlarono i profeti, la salvezza dal peccato. Infatti il nome Gesù significa Yahweh salva, Yahweh è il nome di Dio. Dunque nello stesso nome appunto che fu dato a Gesù dall'angelo e che poi fu, una volta che quando nacque il bambino gli fu dato, nel nome di Gesù c'è quello che appunto il Messia doveva compiere nel mondo, quindi salvare gli uomini dai loro peccati. In che maniera il Messia doveva salvare gli uomini dai loro peccati? Morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno. Perché? Perché così era stato preannunziato. Infatti il profeta Isaia aveva detto quanto segue in merito al Messia, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. fu così che il profeta Isaia da parte di Dio preannunziò la morte spiatoria del Messia. Egli doveva essere trafitto, fiaccato, egli doveva essere ucciso, immolato a cagione delle nostre offese. E questo è quello che avvenne. Perché? Perché Gesù poi fu, dopo essere andato attorno, facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché il Dio era con lui, appunto, il Dio era con lui, ebbene, dopo aver fatto tanto del bene, il suo bene gli fu contraccambiato con il male, il suo amore con l'odio, e fu arrestato, fu arrestato, portato davanti al sinedro ebraico, che lo condannò come reo di morte per avere proclamato di essere il Cristo, il figliolo di Dio. Lo condannarono a morte, poi lo, diciamo, consegnarono nelle mani del governatore della Giudea, che allora era Ponzio Pilato, al quale chiesero con forza, con determinazione, di crocifiggere Gesù, il Cristo. E nonostante Ponzio Pilato all'inizio non voleva, diciamo, crocifiggere, perché lo voleva liberare, perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, alla fine Pilato sentenziò per soddisfare la folla che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, la folla dei Giudei, il popolo dei Giudei, ebbene, Pilato sentenziò per soddisfare la folla, sentenziò che Gesù fosse crocifisso. E di fatti lui fu crocifisso. Fu messo in croce in mezzo a due malfattori, fu annoverato quindi tra i malfattori, e fu appunto crocifisso per i nostri peccati. In lui quindi si adempì quello che era stato detto dal profeta Isaia appunto in merito alla morte che doveva fare il Messia. Dunque fu una morte spiatoria avvenuta affinché si adempisse ciò che era scritto. Ma il Messia doveva anche risuscitare dai morti. Sì, il Messia doveva risuscitare dai morti perché la morte non lo avrebbe, non era possibile che la morte lo avrebbe ritenuto perché il Dio appunto aveva innanzi stabilito che il Messia dopo essere stato ucciso, i giudei lo uccisero, doveva risuscitare dai morti e questa resurrezione, la resurrezione del Messia fu preannunziata da Davide che era profeta, Davide il dolce cantore di Israele che fu re di Israele con queste parole la preannunziò anche la mia carne riposerà in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Così appunto Davide antivedendola parlò della resurrezione del Cristo o Messia dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ade se che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione e così infatti avvenne perché Gesù dopo essere stato seppellito risuscitò dai morti il terzo giorno affinché si adempissero le scritture e dopo essere risuscitato dai morti apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. D'altronde Gesù stesso prima di essere arrestato e condotto davanti a Sinidro aveva più volte preannunziato ai suoi discepoli che a Gerusalemme sarebbe stato arrestato condannato a morte e ucciso ma anche che sarebbe risuscitato dai morti. Dunque io vi annunzio la buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia o Cristo e in lui si sono adempiute le scritture Dio ha vigilato sulla sua parola per mandarla ad effetto nella pienezza dei tempi quindi Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture fu seppellito seppellito e risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio questa è la buona novella questo è l'Evangelo nel quale dovete credere per essere salvati salvati dai vostri peccati perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo primo e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma è giusto vivrà per fede quindi rivedetevi e credete nell'Evangelo perché nell'Evangelo che credendo mediante l'Evangelo nel quale credendo sarete salvati liberati dai vostri peccati da quei peccati appunto che ora vi signoreggiano voi sarete affrancati nel momento in cui crederete nell'Evangelo della gloria del beato Dio sarete finalmente affrancati sarete degli uomini liberi non solo sarete giustificati perché Dio vi renderà giusti in quanto vi imputerà la giustizia senza opere la vostra fede vi sarà messa in conto di giustizia e potrete dire assieme a noi giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore sarete anche perdonati perché credendo nella buona novella nell'Evangelo si ottiene la remissione dei peccati infatti è scritto che di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome sì quei peccati che voi avete sulla vostra coscienza che vi pesano che costituiscono un peso schiacciante sulla vostra coscienza vi saranno rimessi mediante il nome di Gesù Cristo e oltre alla remissione dei peccati sarete anche otterrete anche la vita eterna sì possiederete la vita eterna perché Gesù Cristo ha detto chi crede ha vita eterna la vita eterna la vita che non ha fine avrete la vita eterna dimorante in voi stessi perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù la vita eterna non è una paga la vita eterna non è una paga non è un salario che lo si può meritare che lo si può guadagnare la vita eterna è il dono di Dio e Gesù Cristo è la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata e quindi la vita eterna è nel figliolo di Dio chi ha il figliolo ha la vita chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita ora voi in questo momento non avete il figliolo di Dio e quindi non avete la vita eterna ma credendo in Lui otterrete la vita eterna e quindi dal preciso momento in cui crederete sarete sicuri assolutamente sicuri che nel momento in cui vi dipartirete che potrà avvenire due secondi dopo due giorni dopo vent'anni dopo non importa voi avrete la certezza che vi dipartirete dal corpo e andrete ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli cioè in Paradiso perché là vanno tutti coloro che hanno il figliolo sì là entrano nel Regno dei Cieli e si riposano dalle loro fatiche là dove c'è la gloria là dove regna la pace là dove non c'è più dolore non c'è più pianto capite? dove vanno coloro che appunto credono nell'Evangelo però sappiate anche questo che se rifiuterete di credere nell'Evangelo l'ira di Dio resta sopra di voi perché voi siete dei peccatori siete dei nemici di Dio in quanto siete schiavi del peccato e siete sulla via della perdizione quindi se voi vi rifiuterete di credere nell'Evangelo l'ira di Dio resterà sopra di voi voi rimarrete sulla via della perdizione non vedrete la vita e quando morirete quando morirete farete una fine orribile perché vi dipartirete dal corpo e andrete all'inferno all'inferno andrete dove c'è il pianto lo stridore dei denti perché lì c'è il fuoco e là appunto sono tormentate le anime di coloro che vi scendono quindi vi scongiuro nel nome del Signore ravvedetevi e credete nel Messia che doveva venire e che è venuto per essere il salvatore del mondo il suo nome è Gesù credete in Lui e sarete salvati sarete perdonati sarete giustificati e otterrete la vita eterna che ha orecchi da udire oda grazie